Buongiorno da Stefania Bonomi e ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Ma andiamo subito a vedere chi festeggiamo oggi di Chieleno Lonomastico. Oggi è Santa Alessio, quindi naturalmente auguri a tutti gli Alessio e a tutte le Alessie. Ma andiamo a vedere chi era questo Alessio. Alessio era un mendicante del Sottoscala, una figura su cui si imperniano varie leggende. La più nota lo vuole servo in casa sua a Roma per anni e non riconosciuto dai suoi. Papa Innocenzo lo ha poi individuato e lo dice ai genitori che giungono addolorati al capezzale quando il figlio e futuro santo è ormai morente. E passiamo alle previsioni del tempo. Abbiamo un caldo ancora molto molto africano, ne parleremo poi nella nostra rassegna stampa. Comunque stabile e soleggiato con temperature in aumento, arriveremo fino a 37-38 gradi. Nell'entroterra un pochino più miti. Abbiamo poi venti orientali, abbiamo temperature martedì 34, mercoledì 36, giovedì scende un pochino 31 e venerdì e sabato. Torniamo a temperature altissime. Oggi il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.45. E come sempre oggi andiamo a collegarci invece con Numana, più precisamente con i bagni marino 1958, dove con noi c'è Ivano Biasiolo, Hospitality Director. Buongiorno Ivano. Buongiorno a tutti. Innanzitutto sottolineiamo che siamo collegati con una delle località turistiche più belle della costa marchigiana. Modestamente non è per merito nostro, ma effettivamente Numana è meravigliosa. È un bellissimo posto. La perla dell'Adriatico. E naturalmente splende il sole, è un caldo immagino anche da voi veramente torrido, ma parliamo di quest'anno un po' come va il turismo. Ossia abbiamo avuto un giugno un po' debole per via della situazione meteorologica che sicuramente avrà un po' danneggiato anche voi, ma adesso finalmente siamo arrivati al momento clou dell'estate. Sì, allora devo dire che storicamente qui a giugno è sempre stato un bellissimo mese con altissime presenze turistiche. Quest'anno invece complice un po' il meteo ballerino e soprattutto i brutti fatti che sono successi in Emilia Romagna, le persone si sono fatte vedere un po' tardi. Quindi diciamo che già da questo weekend abbiamo visto un andamento crescente di presenze, noi almeno qui. Però so che questa cosa qua di un mese di giugno un po' fiacco è stata riscontrata un po' in tutta la costa. Senta Ivano, se dovesse farle questa domanda, che tipo di turismo? Abbiamo più italiani o abbiamo più stranieri? E se sono stranieri di che provenienza? Allora, quest'anno noi abbiamo rinnovato completamente tutte le strutture, abbiamo fatto una cosa insomma anche abbastanza contemporanea e devo dire che abbiamo riscontrato un'alta presenza di turisti stranieri, europei, anche americani abbiamo avuto, che negli anni passati insomma erano veramente sporadici. Invece abbiamo avuto settimane in cui c'erano pareti turisti anche americani. Mentre nel weekend insomma si concentra un po' il turismo locale. Più locale. Che differenza di richieste ci sono tra il turista italiano e il turista straniero? Allora il turista straniero, che se ne dica, ama le comodità. Quindi noi come spiaggia facciamo per esempio il servizio sotto l'ombrellone, quindi è un servizio che loro piace tantissimo, a loro piace ordinare tranquilli sotto l'ombrellone e mangiare e mangiare lì. Ecco, il turista italiano un po' meno, diciamo che è più, come dire, bel mare, faccio il bagno, quante doci mi dai, ecco insomma diciamo che siamo un po' più sulla trattativa piuttosto che non fa quello di sapere i servizi che abbiamo noi. Non so se mi spiego. Quindi diciamo che il turista straniero è un po' più pignolo su determinate cose, mentre il turista italiano è più semplice in questo senso. Sì, ricerca un po' più, il turista straniero ricerca un po' più i servizi, quindi le comodità, no? Le commodities. Mentre l'italiano magari le commodities si interessano meno, interessa più, come dire, il prezzo. Quindi guarda più quello, ecco, perché metta a caso che siamo in un momento un po' delicato dal punto di vista economico, quindi tutti cercano di risparmiare, ecco, un po' così. Va bene, Ivano. Mentre gli stranieri sono un po' più... Benissimo, comunque poi noi parleremo nei prossimi giorni, ci vediamo per tutta la settimana, quindi parleremo nei prossimi giorni di tante altre cose. Per il momento noi la salutiamo e naturalmente gli auguriamo una buonissima giornata a lei e naturalmente a tutti gli ospiti del suo stabilimento e ci vediamo poi domani mattina. Grazie Stefania, grazie, buon lavoro a tutti e saluto agli amici di Fano TV. Grazie mille, grazie. Ed ecco che iniziamo la nostra rassegna di lunedì 17 luglio. Andiamo subito a vedere la prima pagina del resto del Carlino. Allora, il resto del Carlino mette in prima pagina a sottomonte la sosta selvaggia lungo la statale 16, prime multe, proteste poi andremo a vedere. A Pesaro ferrovia sul mare da riconvertire pure De Blasio dall'Ok e la Fano de Cesari che si è svolta ieri sera vince il Delfino contro la Volpe e andremo anche qua ad approfondire. Ma vediamo subito per quel che riguarda le notizie di Pesaro. Eccolo qua, Ricci e De Blasio, progetto in comune, spostate la ferrovia come a New York, l'ex sindaco della Grande Mela un'ora sul palco in Piazza del Popolo a parlare di ambiente ed ecologia. Argomento principale è il polmone verde che dovrebbe scorrere nel centro di Pesaro al posto dei binari. Un progetto veramente molto tecnologico, si chiama Green Line, la ferrovia è ancora questo l'obiettivo che vorrebbe. Certo, assolutamente sì, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ha parlato del suo progetto con un ospite d'eccezione, Bill De Blasio, l'ex sindaco italo-americano di New York. Dunque, nei prossimi anni è prevista la deviazione della ferrovia di Pesaro che passerebbe accanto all'autostrada permettendo quindi vari punti di scarico per le merci nelle zone industriali. Ma che cos'è un Green Line? È una ferrovia sopraelevata trasformata nel circuito pedonale più lungo del mondo. La Green Line corrisponderebbe alla linea ferroviaia in direzione Fano che quando verranno eseguite tutti i lavori necessari alla deviazione sarà trasformata in una nuova bicipolitana o zona pedonale collegando quindi alcune parti della città che magari ora sono poco collegate. Prima pagina, Sottomonte, Autolandia, sosta sempre più selvaggia, bagnanti a zigzag sulla SS 16. Una pattuglia della polizia locale ha elevato multe ma è tutto un pericolo. Un giovane che faceva il bagno ha salvato un cinquantenne che stava per annegare auto incolonnate, pullman, scooter, bagnanti a piedi con dei canotti già gonfiati che attraversavano la strada con bambini a seguito, zigzag per evitare scooter, parcheggiatori e vunk e furgoni dei fornitori che sono ancora in mezzo alla strada per scaricare. Anche ieri c'è stato il tutto esaurito nella spiaggia che va dall'ex Crista a Fasso Seiore dove si alternano bagnini e spiaggia libera. Migliaia di auto sono state parcheggiate ai lati della statale e non c'era la possibilità per gli automobilisti di avere più spazio a destra e non ingombrare quindi la carreggiata. A metà mattina sono state chiamate anche i vigili urbani per far rimuovere delle vetture che rappresentavano un pericolo per l'intera circolazione. Sono state elevate alcune contravvenzioni alle auto parcheggiate davvero male. Ed eccoci qui alla nostra Fano de Cesari Trionfa, la biga del delfino, la spuntata sulla volpe. Altri premi, miglior pompa mani al lupo, al cinghiale miglior olu di fortune e il sindaco ha fatto l'ingresso su un calesse vestito da imperatore. L'ingresso di Giose, Faustus, Flavius e Cristus in un'arena gremita di oltre 2000 persone ha infiammato il gran finale della Fano de Cesari con il sindaco Seri che ha fatto il suo ingresso sul calesse vestito da imperatore. Si è conclusa così alle 21.45 la spettacolare Corsa delle Bighe organizzata dalla Proloco di Fano con la collaborazione delle associazioni di rievocazione storica. a salire sul caldo del vincitore, la origa Faustus che ha portato alla vittoria la fazione del delfino in una combattutissima corsa finale contro la volpe. Oltre 2000 persone assiepate per il gran finale della rievocazione romana. Ed ancora andiamo a questo punto al Corriere Adriatico dove le notizie sono un po' più ampliate. Allora, come detto, prima pagina, Pesaro al mare sosta da incubo, titolo di testa, caos parcheggia sotto Monte Levante, troppe bici sulla ciclabile e l'ambulanza non passa, albergatori costretti ancora a chiamare i vigili per far rimuovere auto e scooter degli ingressi. Poi abbiamo la fotonotizia, assalto alle spiagge per sfuggire a Caronte. Caldo record e da oggi siamo in allerta rossa. Le brevi di cronaca abbiamo a Pesaro, perde il salvagente, rischia di annegare salvato da un giovane. Sempre a Pesaro, Osservatorio Valerio, scomparso Bedosti, lo storico direttore. Ed ancora da Pesaro, rifiuti, piano rivisto, ma non si allunga l'uso delle discariche. Liste d'attesa, zero posti per ecografia e test cardiaci. E in fondo pagina, acquedotto senza pace, nuova rottura notturna dopo via Ponchielli, il guasto a Villa San Martino, tecnici MMS al lavoro, servizio ripristinato alle ore 12. E siamo all'emergenza caldo, a cui il resto del carlino, scusate il Corriere di Attico, dedica al primo piano Marche, eccolo qua, è arrivato Caronte, mai così caldo in 30 anni. Oggi scatta l'allerta rossa. L'analisi della mappa, temperature fino a 4 gradi sopra la media, condizione a rischio, servizi sanitari pronti a intervenire. E esce anche il decaloco del Ministero per affrontare le ondate di calore. Cocchi è attivato 24 ore su 24, il numero verde per la richiesta di assistenza o la segnalazione di cricitità. Fano nei giorni scorsi aveva annullato iniziativa pomeridiana all'aperto. E la cosa potrebbe essere replicata anche in altre città, finché le temperature si manterranno sopra la media. E l'AFA continuerà ad opprimere la regione. Come potete vedere qui dal grafico, il bollettino a Pesaro, la temperatura è di 32 gradi, ma quella percepita è di 38 e siamo con il bollino rosso. Bella l'intervista anche al medico veterinario Cerquetella, che ci parla anche dell'emergenza per i nostri animali, perché anche gli animali, quando viene questo caldo torrido, sono veramente a rischio. E quindi dice, anche gli animali domestici soffrono per alte temperature. Come aiutarli a cosa si può fare in caso di colpo di calore? Non sono in grado, attenzione, di sudare come noi, ma hanno un altro modo nel loro corpo di disperdere il calore. Aumentano la frequenza respiratoria e quindi respirano poi a bocca aperta. L'animale diventa apatico e molto meno attivo, tende a sdraiarsi, ma soprattutto ansima eccessivamente e quindi bisogna non lasciarli assolutamente in macchina. Attenzione a questa cosa di chiudere il cane in macchina con un pezzettino di finestrino abbassato. Non si deve fare perché la temperatura del cane diventa altissima e non basta chiaramente il finestrino abbassato. Quindi se vivono all'esterno, installare un riparo non devono essere esposti alla luce diretta del sole, se non per loro scelte comunque nelle ore più calde. Anche questo, magari evitiamo di portare i cani al mare, di metterli anche all'ombra sotto l'ombrellone, perché il cane soffre se non può fare il bagno. Quindi magari andiamo nelle spiagge predisposte, proprio le famose spiagge per i cani. E naturalmente va posta attenzione anche all'alimentazione per la somministrazione di integratori. Comunque è sempre meglio rivolgersi ai veterinari. Sempre in primo piano, Pesaro, al mare, sosti in overbooking. Anche l'ambulanza non passa per le troppe bici ammassate. Ne abbiamo già parlato sul resto del Carlino. Gli albergatori di Levanti costretti a chiamare ancora una volta i vigili ed è rinnovato l'appello a utilizzare le navette, soprattutto per raggiungere la Baia. Una notizia di cronaca. Il soccorso senza salvagente rischia di affogare. Giovane lo afferra e lo porta in salvo. Il bagnante lo aveva perso. E si trovava in un punto dove non toccava. È successo a Pesaro senza più salvagente. È bloccato in un punto di mare dove non toccava. Stava annaspando e rischiando di annegare. Se l'è vista brutto un sessantenne che ieri era al mare con la famiglia nella spiaggia libera di Sottomonte. Il rischio scampato lo deve al ventiquantenne fanese Emanuele Lorenzetti che mentre ne recuperava il salvagente lo ha visto in difficoltà e non ci ha pensato due volte a raggiungerlo. Afferrarlo e portarlo verso riva mentre il moscone del bagnino li raggiungeva. La protesta di nuovo nella zona di Ponente notte insonne e sono ancora di nuovo le segnalazioni per il rumore. È stata un'altra notte insonne per gli albergatori del tratto terminale zona Porto tanto più che l'AFA per Durante ha spinto le comitive di ragazzi a tirare tardi sulla spiaggia tra Urla, Bardoria e Schiamazzi. Certo questo caldo porta le persone a stare fuori il più possibile soprattutto poi chi non ha l'aria condizionata in casa. Sempre a Pesaro, acquedotto, senza pace, nuova rottura la doccia la facciamo a casa dei nostri genitori dopo via Ponchielli un altro guasto sabato sera a Villa San Martino ma MMS ha risolto tutto a mezzogiorno. Ed andiamo a vedere, ecco la notizia, in prima pagina Fano la dedica tutta l'emozione e allo spettacolo per i Cesari il Delfino Primeggia tra le fazioni non deludono Parata del Trionfo e Corsa delle Bighe tra gli spettatori, il governatore Acquaroli. Per cinque giorni un salto indietro a Fano Fortuna e ricostruiti gli ambienti e le attività dell'epoca in scena anche le battaglie. Sono stati cinque giorni di full immersion nell'epoca romana in cui i fanesi hanno voluto rivivere i fasti dell'antica Fano Fortuna saliti alla ribalta tra l'altro recentemente grazie infatti alle nuove indagini archeologiche ancora in corso che hanno sollevato l'ipotesi del ritrovamento della Basilica di Vitruvio. Si è iniziato con il rito di accensione del sacco fuoco e si è terminato con l'ardere delle fiaccole nei braceri degli accampanenti nei focolari della Domenico in uno spettacolo che ha coronato di mille bagliori il frontespizio dell'arco di Augusto. Passiamo ad Urbino, ad Urbino San Bermardino e Pieve di Cagna piano per riqualificare i cimiteri dopo le segnalazioni di Urbino Servizi per infiltrazioni e deterioramento. L'intervento, l'amministrazione comunale si mette a disposizione con una proposta che possa offrire soluzioni a costi contenuti di fronte a ipotesi di costi pari circa a 24.000 euro per San Bernardino e a circa 18.500 euro per Pieve di Cagna. Ma anche i proprietari di Loculi dovranno partecipare alle spese di sistemazione. Andiamo a vedere, sempre restiamo a Fano, Minardi guida il PD di Fano, notizia politica, si cerca l'unità del partito. Le elezioni con 27 voti su 45, la minoranza si astiene, ma passa il suo documento. Renato Claudio Minardi è il nuovo segretario del PD fanese, elezione cui è arrivato come candidato unico. Il neosegretario si impegna per il confronto interno e naturalmente per allargare il centro-sinistra. Ci spostiamo in Valcesano, museo all'aperto boicottato, danni e gesti sconsiderati. L'architetto Polverari denuncia il degrado dell'area artistica pubblica di Piagge. Purtroppo dobbiamo segnalare ancora danneggiamenti e gesti sconsiderati nei confronti del museo a cielo a perre, terre di Lubacaria, di Piagge, terre roveresche, commenta sconsolato l'architetto Gabriele Polverari, presidente dell'associazione culturale ProArt. Come se non fosse stato sufficiente aver già spazzato via quasi 100 metri quadrati di murale, opere d'arti realizzate da quattro artisti senza che nessuno abbia mai mosso un dito. All'inaugurazione nel 2008 partecipò anche il sindaco. Opere distrutte e rese non fruibili sempre in Valcesano. L'addio a Festus sarai sempre nei nostri cuori. Oggi a Mondolfo le esecue del giovane ganese, vittima di omicidio stradale. Senigallia, notizia di cronaca. Sballato dall'alcol, sviene in strada, ragazzo abbandonato alla stazione, soccorso da un tassista sabato notte, ubriachi sul lungomare, oltre altri due minori, scusate, all'ospedale. È successo a Senigallia, shock davanti alla stazione sabato notte, dove un giovane è stato lasciato a terra, privo di sensi al limite del cometilico. Quando si è ripreso, stava per soffocare due ragazze, sono state le prime a prestargli aiuto e a scongiurare il peggio. Sempre a Senigallia, X-Master 6.000 a sera per lo show dell'estate. La seconda giornata di 105, X-Master è iniziata all'insegna del rispetto dell'ambiente con la pulizia delle scogliere da parte del campione Roberto D'Amico e di tanti altri giovani che hanno contribuito all'impresa. Tanta gente al village, sulla spiaggia di Della Cesenella. E andiamo a vedere anche, essendo luidi, qualche notizia di sport. La visa blinda di Paola, tre anni di contratto. Il pesaro, il forte centrocampista, si è legato alla società bianco-rossa fino al 2026. Un tassello importante che dà spessore alla squadra di Mister Bancheri. Ed ancora, ormai il destino dell'alma, si gioca sulle carte bollate. La società continua a lavorare per tentare il ripescaggio in Serie C. Si apre per loro una settimana cruciale. Oltre ai tanti soldi da investire, sarà fondamentale che lo stadio Mancini sia a posto. E andiamo anche a vedere qualcosa che riguarda gli spettacoli. Naturalmente è un momento questo che tra Fano, Pesaro, Zona e Limitrofe, gli spettacoli sono veramente tanti che quasi non si sa bene dove andare. Tra spettacoli di cultura, spettacoli di musica, manifestazioni, sagre, feste. Io volevo segnalarvi oggi che per una cosa che riguarda domani, l'attore Pinzauti con il monogono 900, domani sarà a Fano. Infatti è un appuntamento fuori programma domani, martedì 18 luglio, alle ore 21 a Fano. 900 di Alessandro Baricco, nell'interpretazione di Fabrizio Pinzauti e le musiche di Egno Morricone. Lo spettacolo rientra tra le iniziative promosse nell'ambito del progetto Torno entro le 6 ed è organizzato da RTI Fano Rocca Malatestiana con direzione artistica di Massimo Pugliani. In questo monologo vengono ripercorse tutte le tappe del pianista del 900. Amico fedele, essere umano unico. I biglietti li potete trovare direttamente presso il Teatro della Fortuna oppure la sera stessa direttamente alla Rocca Malatestiana. Abbiamo concluso la rassegna stampa di oggi, questa è stata l'ultima notizia. Noi naturalmente ci vediamo domani mattina sempre con il primo appuntamento dell'informazione. Vi ricordo che l'informazione torna questa sera alle 20.30. e io naturalmente vi auguro una caldissima ma buona giornata. Arrivederci, grazie.